Ci ho provato a collaborare con molti e se ho preso tutt'altra strada il tempo darà spiegazione delle mie azioni. Ripendico il mio diritto di essere outsider e di non avere colleghi, non basta una webcam, un pc per diventare miei colleghi. Io parlo solo per me stesso e i miei collaboratori e tutto lo stato di cui gestiamo i tre canali, non su alto. Ci ho provato a collaborare con molti, in questi tre anni mi saranno testimone di tutti i tentativi che ho fatto per cercare alleanze e collaborazioni. E se ho preso tutt'altra strada il tempo darà spiegazione delle mie azioni. Ripendico il mio diritto di essere